Il basket è al lavoro alla nuova Sneijdero che si è radunata ieri, nuova davvero, è cambiato l'allenatore, sono cambiati tanti giocatori, uno dei pilastri rimane però Michele Antonutti lo sentiamo in queste interviste. La Sneijdero di quest'anno è una Sneijdero in cui ci sono molti giocatori che sono dei giocatori che magari non sono ancora a livello panorama di alto livello ma sicuramente avranno voglia di mettersi in luce. Credo che i giocatori principali saranno Jackson, il nuovo playmaker, le guardie Rashad Henderson, Torres e anche il pivot Romero. Sicuramente però una squadra come la nostra avrà bisogno di non uno, due, tre stelle, avrà bisogno di tutto l'organico perché con una squadra in cui sono tante scommesse, tanti giocatori che si vogliono mettere in luce, l'importanza di una squadra così è il gruppo proprio. Quest'anno il basket italiano credo si sia livellato ancora di più, ci sono molte squadre con budget molto simili, a parte la corazzata a Siena ci sono dietro le due Bologne che hanno dei budget molto alti, hanno anche preso dei giocatori di livello NBA quindi sicuramente sarà un anno difficile. Noi cercheremo di mettere la nostra grinta, la nostra lotta, tutte le nostre armi per riuscire a superire magari i budget di differenza. Sicuramente è un coach importante di alto livello, viene da una grande stagione a Milano, è riuscito a lanciare un grande giocatore come Gallinari, insomma è un coach che non serve le mie parole per spiegare, è una grande persona, una persona che darà energia e sicuramente la trasmetterà anche a questa squadra.